La zia Rosalia, che io sappia, ha rinunciato a qualsiasi legame. Ha preferito dedicarsi a noi, a farci da madre, sempre presente e affettuosa. Mariuccia si è svegliata! Evviva, si è svegliata! Sento urlare dal basso la zia Rosalia che annuncia, emozionata, l'ormai consueto evento che da molti anni si ripete come un rito e a cui, ormai, non faccio più caso. Sempre bello ritrovarsi in libreria, fra libri e persone che sono degli esperti del mondo del cinema. Io credo che sia sempre un grande banco di prova per gli attori essere chiamati ad interpretare personaggi dei romanzi perché gli autori danno un grande affidamento di responsabilità in queste occasioni e mi sento onorato, quest'oggi, di poter partecipare a questo bellissimo evento e mi auguro ne seguano tanti altri ancora. Come sempre, viva i libri, viva il cinema, viva gli artisti e viva la cultura!